La prefettura chiede chiarimenti agli enti competenti per comprendere se è quanto da noi dichiarato degli elementi di veridicità oppure è superato da eventuali altri eventi. Di che tipo di inquinamento parlate nella vostra interrogazione? Ci sono diversi parametri fuori legge, dal cloroformio ad alcuni metalli pesanti, ad altre sostanze potenzialmente cancerogene. La cosa che chiediamo al sindaco è capire perché per il discorso della discarica ha provveduto con un'ordinanza al divieto di mungimento delle acque e nel caso di tutta questa fascia che va dal poligrafico fino al centro di Foggia non ha provveduto con nessun intervento a vietare l'utilizzo delle acque e dei pozzi. Questa cosa ci sorprende anche perché questo problema dura da tantissimo tempo e quindi è una cosa che crediamo abbastanza preoccupante. Questa forma di inquinamento è accertata e da quali indagini? Ci sono delle analisi fatte addirittura dallo stesso istituto poligrafico che attestano questo inquinamento tant'è vero che l'istituto poligrafico non utilizza più l'acqua dei suoi pozzi da oltre un anno quindi è una situazione abbastanza grave e c'è, non so se ancora in essere un tavolo tecnico con la provincia quindi mi sorprende che tutti questi enti che si sono seduti intorno al tavolo non hanno pensato da buon parte di famiglia di intervenire immediatamente con una sospensione cautelativa dell'utilizzo delle acque a fini rigui.